C'è uno per te, che fai? No, voglio prima parlare un attimo con lui. Ma poi entra. È giovane. Maria, è più giovane di me? Sì. È fresco allora? Molto. Maria, in che senso? È giovane. È giovane. Entra e entra. Così ti toglie ogni dubbio, no? Di che cosa? Visto che già la settimana scorsa comunque qualche dubbio l'avevo avuto, poi non lo so. Sì, perché comunque hai fatto delle cose strane questa settimana, Riccardo. Cosa hai fatto? Vabbè, anche quello che è successo l'altra sera, mentre parlavamo al telefono, che mi arrivavano i messaggi, e io ho girato il telefono per vedere chi fosse, e tu che hai fatto? Ti ho detto, ma che stai facendo? Mi stai registrando? Stavamo parlando di una cosa particolare che non riguardava... È diffidente in una maniera assurda. Eh, purtroppo sì, lo sono diventato. Già lo ero, ma lo sono diventato ancora. Quella cosa mi è dispiaciuta un sacco, perché registra una persona, cioè, è premeditato, è brutto proprio da fare. È bello dire solo un pezzo, no? Ho detto, l'ho spiegato il perché. Ma tu non puoi vivere sul passato, però, perché tu di fronte c'è un'altra persona. Eh, lo so. Eh, lo so. Eh, lo so, lo so. Ho capito? Solo ho fatto i tuoi, però lo sai. Già lo ero in passato un po' diffidente. Quindi se io faccio una domanda, che c'è qualcosa che non mi quadra come mamma e come donna, non va più bene. Ok, e allora mi vado a sedere. Fa entrare l'altra persona. Maria, fa entrare l'altra persona. E io mi vado a sedere. E io mi vado a sedere.